Serviva continuità casalinga e contro Brescia e Castellana è arrivata, ora serve cambiare marcia anche in trasferta. Con questo obiettivo la Tonocalipo Calabria affila le pinne in vista del match a domicilio sul campo del Matera. Nella terra dei sassi i ragazzi di Monti proveranno a spaccare l'incantesimo lontano da Vibo, abbattutosi sui giallorossi da Corigliano in poi. Un sortileggio che ha interrotto sul più bello il cammino esterno dei tonni, capaci di infilare un filotto di quattro vittorie consecutive fuori le mura amiche. Poi due sconfitte contro i cugini Pitagorici, appunto, e Tuscania. Teatro quest'ultimo che ha fatto da esordio in trasferta sulla panchina vibonese di Coach Monti. Domenica a Matera l'ex allenatore di Piacenza proverà ad infilare il primo successo in esterna, il terzo consecutivo da quando è alla guida della Callipo. Con lui al timone Vibo Valencia ha raggranellato otto punti in quattro partite, un ruolino di marcia da grande del torneo, alla quale adesso serve ritornare a sorridere anche oltre confine.